e buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti ultima volta promesso che vi salto la live ci vediamo venerdì a tal proposito ma non vi abbandono anche oggi un bel flash update con principali aggiornamenti del caso binance che come sapete è in continuo sviluppo aggiornamento ci sono già il nuovo CEO ci sono le dichiarazioni ufficiali di CZ del nuovo CEO e del dipartimento di giustizia per capire quindi come si è concluso il caso e ci sono già alcuni analisti che esprimono la loro in particolare JP Morgan ad esempio è molto positivo sull'accaduto riguardo appunto quello che potrebbe essere il futuro di questo patteggiamento cioè potrebbe essere veramente un punto di ripartenza per il mercato con una nuova maturità no un mercato che è maturato un po' e si lascia alle spalle il periodo diciamo un po' di far west io inizio proprio con il chiedere a voi cosa ne pensate cioè questo patteggiamento questo questo evento potrebbe essere un nuovo inizio o secondo voi ha un ulteriore metodo per iper controllare da parte del governo statunitense il mercato cripto insomma come la vedete cosa qual è la vostra opinione a caldo di ciò che potrebbe scaturire da questo patteggiamento fatemelo sapere nei commenti così ci confrontiamo come sempre inoltre mi raccomando lasciate un bel like per gasarmi sapete che quando vedo i vostri like io mi gaso inesorabilmente e per dire anche oggi io c'ero ragazzi perché qua si sta facendo nel bene e nel male la storia si sta mettendo i paletti per una nuova forma di mercato cripto sempre più matura e regolamentata è un bene è un male ai posteri l'ardua sentenza però io credo che sia l'unica direzione che si può seguire cioè non si può pretendere che rimanga un mercato un po' così soprattutto se vogliamo che assuma certe dimensioni e che vengano approvati gli etf questo è proprio un tema secondo me perché l'aver cioè questo patteggiamento potrebbe essere una un simbolo di ripartenza anche in vista degli degli etf in fase di approvazione cioè magari l'aver messo da parte cz se vogliamo l'aver voltato pagina sui possibili illeciti errori che binance ha commesso in passato ecco che elimina un potenziale problema che si poteva frapporre nell'approvazione degli etf stessi e quindi ecco le probabilità di approvazione forse aumentano ancora di più potrebbe essere anche questo un punto che val la pena valutare perché comunque binance con lo strapotere che aveva sul mercato ecco che era un attore comunque che non si poteva assolutamente ignorare jp morgan tra l'altro guardate ha detto la sua esprimendosi in modo positivo perché addirittura afferma che questo elimina un possibile rischio sistemico di potenziale collasso del mercato proprio per le dimensioni che binance aveva raggiunto quindi il riuscire ad andare oltre il passato a superare un po questo questa indecisione no che poteva finire molto peggio perché è finita sì una multa il cambio di dirigenza però di fatto insomma è finita probabilmente nel migliore dei modi perché era molto peggio se si prendevano azioni penali si congelavano fondi si impediva all'exchange di continuare a operare insomma poteva finire peggio dai ammettiamolo e quindi un esito di questo tipo potrebbe davvero identificare una ripartenza del mercato in un modo un po più maturo proprio perché adesso binance tra l'altro dovrà assolvere degli obblighi ben precisi guardate questa è la dichiarazione dove eccola qua del dipartimento del tesoro dove hanno affermato insomma la il settlement di ieri che è il più grande della storia nel mondo cripto e come vedremo tra poco anche nel mondo finanziario quasi una cosa importante vedete è che adesso binance avrà un obbligo di monitoraggio continuo lato anti riciclaggio e come vedete qua dicono che appunto dovrà monitorare che mette in atto quello che non ha messo in atto in passato lato anti riciclaggio inoltre faranno delle revisioni periodiche e faranno dei report al fincen che è il dipartimento se non ricordo male dei crimini finanziari lo fa che il cftc sulle su quello che hanno trovato e le raccomandazioni al fine che binance continui ad operare nel modo corretto quindi di fatto binance diventerà vigilato e regolamentato da parte dei regulator statunitensi cioè questo è un passo avanti diciamocelo ripeto poi magari a qualcuno dà fastidio che ci sia lo zampino dei regulator ma il fatto è che se si vuole comunque un mercato di certe dimensioni un mercato sufficientemente maturo non può essere altrimenti cioè non si può non essere regolamentati nel modo più completo possibile quindi questa è una cosa io aggiungo una piccola parentesi questo potrebbe essere un nuovo 2010 no non so se chi di voi ha seguito quello che è accaduto nel mondo finanziario nel 2010 ho fatto un piccolo una piccola riflessione stamattina e non so se avete presente il caso più clamoroso era quello dell'hsbc che è una grande banca che aveva riciclato i soldi del narcotraffico per anni e è stata multata tra l'altro poco più di due miliardi la metà di binance vi fa molto ridere no tutto questo poi c'è stata credit suisse barclays standard chartered bmp paribas deutsch bank e c'è una lista molto lunga no nel 2010 di banche che non avevano una struttura anti riciclaggio sufficiente hanno permesso transazioni illecite verso paesi sanzionati come l'iran la libia la siria i finanziamenti quindi al terrorismo tramite questi giri di denaro e ci sono sempre state delle multe delle teste che sono saltate come cz in questo caso e poi sono andati avanti a lavorare perché comunque questi patteggiamenti solitamente servono non per farti chiudere cioè se ti vogliono far chiudere c'era l'altra modalità cioè andare avanti con le accuse le probes penali andare a vedere cosa fai ti congelo qua ti congelo a mettersi bastoni tra le ruote no mentre un patteggiamento solitamente indica la voglia da tutte e due le parti di cercare di voltare pagina e quindi anche cioè mi ricorda molto ecco questa questa situazione qui e quindi secondo me questa potrebbe essere una fase in cui gli exchange che ormai sono diventati un po le nuove banche del mondo cripto vengono appunto vigilate in questo da questo punto di vista e devono comunque essere compliant binance non sarà secondo me l'ultimo ad essere oggetto di indagini di questo tipo un exchange se vuole assumere certe dimensioni dovrà comunque far sì che eventuali controlli vadano a buon fine e quindi insomma attenzione perché qua siamo a un punto in cui i regulator sono dentro a gamba tesa hanno gli occhi esattamente sopra le attività cripto non si scampa più soprattutto in vista degli etf in arrivo no questa è una una scusa che ulteriormente gli fa fare leva su su ciò quindi detto questo punto di ripartenza non punto di ripartenza lo vedremo innanzitutto andiamo a vedere un po la price action quindi come il mercato ha apprezzato questa notizia per il momento nessuna particolare reazione perché vedete bitcoin ieri ha visto un inciampino ma oggi è già stato per la metà assorbito siamo sempre nella solita struttura siamo in un sotto range qua sopra possiamo dire dove appunto ci stiamo muovendo al suo interno e macroscopicamente siamo sempre nel solito range quindi adesso perché parliamo anche di sotto range perché vedete che abbiamo già due low tac tac che lo confermano quindi non si può più ignorare di fatto ma è una strutturina piccola no di di breve proprio quindi possiamo dire questo che con ancora maggior precisione fin tanto che rimaniamo in questo sotto range abbiamo la domanda che vince no che è più forte nel momento in cui questo sotto range viene perso e rimaniamo però all'interno del range macroscopico siamo sempre in un range dopo una leg up molto forte quindi sempre maggior probabilità di accumulazione nel momento in cui andiamo a perdere il range a ribasso entriamo in ritracciamento ma non viola questo comunque la struttura macroscopica che rimane di higher highs higher lows la struttura macroscopica viene violata solo in caso di assorbimento dell'impulso rialzista barra lower low quindi sotto i 27 mila ci siamo ancora molto lontani non dimentichiamoci che adesso ci troviamo qui no facciamo sempre una razionalizzazione del movimento quindi questo da un punto di vista della price action non abbiamo ancora nessun tipo di reazione siamo rimasti esattamente dove eravamo prima e sono curioso se di vedere se magari questo potrebbe fare da catalizzatore per un eventuale ulteriore breakout o se magari dovremmo comunque aspettare l'approvazione io dico sempre eventuale l'eventuale approvazione degli etf spot la data rimane sempre il famigerato 10 gennaio con questo patteggiamento di binance ecco secondo me è un ulteriore tassellino che va verso quella direzione lì al quale proprio ieri tra l'altro si è affiancato il fatto che apparentemente grayscale ha avuto dei meeting con la sec in particolare con la divisione trading e mercati proprio per parlare insomma del discorso trust da convertire in etf e quindi insomma vanno avanti i dialoghi sembra che siamo sempre appunto in quella fase lì noi su quella strada lì per molti il questo patteggiamento noi soprattutto le dimissioni di cz che vuoi o non vuoi è colui che ha portato binance a quello che è oggi no nel bene e nel male comunque l'ha fatto lui l'ha creato lui è un po la fine di un'era che simboleggia da una parte appunto la fine di un'era nel senso che cz sarà dietro le quinte cosa che fa strana no perché è sempre stato un protagonista e dall'altra l'inizio di una nuova era dove gli istituzionali cercano di prendersi il grosso del mercato questo è palese perché guardate le azioni che la sec ha fatto contro tutti gli exchange addirittura coinbase kraken ha tirato in mezzo che se ci sono due exchange attenti alla compliance che si sono fatti un mazzo tanto sono loro e nonostante ciò la sec li è andata a rompere le scatole inoltre tutto il discorso delle security insomma mettere i bastoni tra le ruote agli exchange il discorso di binance quindi sono arrivati al patteggiamento hanno fatto uscire di scena cz hanno imposto una sorveglianza sull'exchange stesso e poi guarda caso arrivano per l'appunto gli etf spot arriva blackrock arrivano arrivano loro no che stanno pure cercando di acquisire ftx stanno cercando di acquisire l'infrastruttura di ftx bullish exchange che è un exchange appunto regolamentato di proprietà dell'ex presidente del new york stock exchange proprio loro vogliono rilevare ftx cioè vedi che una una pedina alla volta un pezzo di puzzle alla volta si sta delineando un quadro che vede gli istituzionali dominare questo mercato la direzione è questa la nuova era che appunto sì le dimissioni di cz sono un evento abbastanza d'impatto no ma non è cioè è soltanto un tassello un po più grosso degli altri però in quella direzione lì e sembra che appunto questa è la strada che il mercato cripto sta prendendo nel bene e nel male di nuovo perché se si vuole un mercato sufficientemente grande anche per far crescere la capitalizzazione la liquidità e tutto sul mercato cripto stesso questa è l'unica direzione che si può prendere non si può impedire che ciò accada non si può rimanere un mercato di nicchia nel contempo arrivare al mainstream e ovviamente questo comporterà degli obblighi aggiuntivi delle rotture di scatole aggiuntive insomma però appunto la direzione sembra essere questa vi chiedo anche cosa ne pensate ditemi come sempre la vostra da un punto di vista invece di price action su bnb che va a apprezzare un po più direttamente se vogliamo l'impatto su binance anche qua c'è stata una price action un po volatile ancora in corso come vedete abbiamo fatto un lower low ma di poco quindi non particolare differenza il grafico ancora abbastanza bruttino su bnb e ancora in c'è molto debole lower highs lower lows quindi sicuramente non è un grafico che fa venire voglia di esporsi speculativamente long io parlo ovviamente di trend mi limito solo a quello non voglio parlare di investimento o non investimento osservo soltanto il grafico e perché l'investimento ovviamente ha dei presupposti ben diversi cioè bnb è una sorta di investimento in binance no indirettamente e al momento però appunto il grafico ha perso cioè continua a perdere supporti c'è un po da trovare il un costrutto di bottom fino ad allora non diventi interessante vediamo un po anche l'andamento della price action nei prossimi giorni anche come postumi di questo evento sempre rimanendo in binance andiamo a vedere le riserve guardate qua io vi ricordo che potete andare a visionare anche da voi portfolio dot nansen dot ai slash entities poi si seleziona l'exchange e vi fa vedere quelle che sono le sue riserve in tempo reale questo per vedere se ci sono in corso delle bank run nelle ultime 24 ore all'incirca un miliardo è stato prelevato da binance stando agli ultimi dati se mi carica questa pagina vi faccio vedere anche quelle che sono le riserve ma le avete viste poco fa prima di ecco ce la facciamo erano 64 miliardi mi pare adesso aspettiamo che le carichi tu 65 ecco si aggiorna in tempo reale e quindi appunto è un sessantacinquesimo che è uscito dalle riserve per il momento quindi teniamolo monitorato questo giusto per capire lo stato delle riserve di binance a proposito di riserve vi faccio vedere anche questa analisi che è stata fatta sulle proof of reserve di binance stesso dove praticamente stando proprio alle loro proof of reserve risulta che loro hanno 6 miliardi e 3 di surplus rispetto alle ai debiti degli utenti questo on chain no sull'exchange in crypto e stable coin in particolare 3 miliardi e 1 in stable coin e 6 miliardi e 3 in totale e questo non include gli asset of chain la liquidità of chain o fondi che non sono nelle proof of reserve fondi dell'azienda binance si intende non degli utenti e quindi con buona probabilità qua sembra che il pagamento della multa non dovrebbe causare nessun tipo di problema di liquidità a binance è interessante questo calcolo proprio perché fa vedere che comunque lo stato patrimoniale di binance per me gli permette tranquillamente il pagamento di questa multa sicuramente una mazzata è pagare 4 miliardi non è che dici va bene non è niente anzi sicuramente qualche qualche ripercussione ce l'avrà però la cosa positiva ecco che nelle condizioni assolutamente sembra da questi dati di riuscire a pagare la multa in questione a proposito di annunci di bainas ufficiali allora bainas e cz hanno annunciato un po quello che sarà il futuro dell'exchange richard tang il vecchio global head of regional market diventerà il nuovo si io cz se ne va si fa da parte si prende una pausa dice non ho mai fatto una pausa in un giorno negli ultimi sei anni e dice che al momento farà un po di investimento cercherà di dedicarsi di più vedete alla defi e non vuole essere un si io ancora un'altra volta probabilmente nel senso sia abbastanza sistemato poi ha la sua quota di maggioranza in bainas e quant'altro che adesso è pure regolamentato e tutto quanto e infine conclude dicendo che dalle dal settlement comunque è emerso sono emersi due punti importantissimi ovvero che bainas non ha mai fatto ma la gestione dei fondi degli utenti quindi non ha mai mischiato e fatto cose strane coi fondi degli utenti e bainas non ha mai manipolato il mercato questo è emerso appunto dal settlement stesso non fanno parte delle accuse quindi che dire cz buon riposo riprenditi un po rilassati un po fai come arturai e smettiti a scrivere un po di cose il adesso è ha pagato la cauzione per non essere detenuto va incontro a un processo che se non ho se non ho capito male dovrebbe essere a marzo aprile 2024 e da lì vedremo la sentenza cosa dirà se andrà in prigione oppure se appunto come aies che ha avuto un'accusa analoga sarà in libertà vigilata lo vedremo per adesso non si sa ancora perché appunto il processo deve ancora essere eseguito che altro dunque poi io in realtà vi avevo volevo parlarvi in breve di questo layer 2 blast di cui mi avete chiesto in tanti ma che a me non convince granché perché di fatto questo non è ancora un layer 2 effettivo è solo un wallet multi sig in cui si deposita e non si può prelevare fino a febbraio quindi sinceramente stavolta credo che piuttosto mi perdo l'air drop ma rimarrò a guardare voi vedete voi un po cosa fare io non non lo so non non mi fa impazzire ecco l'idea quindi per il momento io resto a guardare ah sì ecco questa è una cosa interessante per i possessori della carta nexo che non hanno mai fatto una transazione c'è un boost se vi interessa sul cashback quindi nuovi utenti ma della carta nexo se utilizzavate già nexo e non avevate non avete mai fatto transazioni con la carta se fate la prima transazione adesso fino al 31 dicembre avrete questi cashback boostati fino al 6 per cento con la modalità credito in base come vedete qua ai livelli di loyalty e addirittura anche sulla debit quindi senza dover fare credito fino al 2 per cento di nuovo in base alla loyalty level bisogna essere nuovi utenti della carta non aver mai fatto transazioni sulla carta questo è quanto ragazzi sono stato super sintetico ma perché volevo appunto soltanto fare un un recapino delle novità da un punto di vista del mercato il mercato non si è smosso anzi oggi sembra essere ottimista ieri è inciampato un po' oggi ha riassorbito un attimo l'inciampo di ieri vediamo una volta che questa volatilità si assorbe dove si va a dirigersi perché questo per l'appunto potrebbe essere la chiusura di un capitolo la chiusura di un potenziale rischio che era lì no vaina sott'indagine e una bella ripartenza in modo più maturo per il mercato a me piace vedere le cose in modo positivo voi come sempre ditemi cosa ne pensate amici grazie per avermi seguito ci vediamo in live venerdì vi auguro una buona serata e alla prossima grazie per avermi seguito